Siamo sulla costa Savonese nel comune di Luano e interveniamo per migliorare e mitigare la difesa dall'azione del mare di un tratto di costa molto pregiato. 4,8 milioni di euro, oltre 50 mila metri cubi di ripascimento e dighe soffolte per due lotti di intervento, il primo già realizzato, il secondo in corso di realizzazione, per aumentare la resilienza di quel territorio e ovviamente anche la capacità di attrattiva turistica. Correva l'anno 2018 quando Luano fu flagellato da eventi atmosferici avversi e ci fu una vera e propria devastazione del nostro litorale. Il comune di Luano ha presentato un progetto a montante a 5 milioni di euro su due stralci da 2 milioni e mezzo che sono stati totalmente finanziati. Stiamo ammanzando un po' di materiale che servirà per il completamento della barriera soffolta, una barriera che serva a non far arrivare il mare con la sua potenza a riva e quindi non erodere la spiaggia. Non solo, a monte a valle si incrementerà la spiaggia con 2.500 tonnellate fra ghiaia e sabbia. In più stiamo allestendo le stringhe per una tubazione con lo scarico a mare di acqua bianca e avrà una lunghezza di 180 metri verso mare.